benvenuti a questa nuova lezione del corso thinkercad oggi sarà una lezione molto pratica dimostrativa dove vi farò vedere un esempio di come modellare forme complesse quindi all'interno della lezione vi farò vedere tre macro argomenti quindi scomporre le forme in moduli importare le forme sia dalle forme base sia dai vari shape generator come abbiamo visto nelle lezioni precedenti e ultima cosa creare forme che di base non esistono in thinkercad attraverso le operazioni io ho già importato il modello che andremo a ricostruire un pezzettino per volta se guardate vedete è attiva la l'icona del nascondi quindi se ci clicco sopra eccolo qua un duomo praticamente quello che andremo a ricostruire è questa forma qua bene naturalmente ci sono forme semplici forme più complesse e soprattutto c'è la composizione di più parti a diversi livelli benissimo allora adesso questo lo sposto in un angolo del piano di lavoro in modo da averlo a disposizione per seguire passo passo la costruzione e io mi metto a costruire la stessa struttura ora naturalmente il più simile possibile adesso non ho tutte le quote di tutte le varie parti però cerchiamo di ricostruirlo diciamo il più simile possibile poi quello che mi interessa fare vedere è in generale il flusso di lavoro poi la dimensione al millimetro chiaramente varia poco bene allora prima cosa devo capire come scomporre la forma in forme più semplici allora prima di tutto lo rimetto un attimo al centro quello che diciamo la struttura base è la forma proprio della cupola quindi la prima cosa che dovrò andare a costruire è questa specie di struttura a uovo a paraboloide ora vediamo come costruirla su quella poi andranno aggiunti tutti gli altri elementi quindi a partire da queste cornici orizzontali questi cordoli qui se vedete l'interno e cavo e ci sono queste questi rosoni queste queste finestre con la loro cornice e poi su su salendo una struttura di raccordo per i cordoli e poi la parte terminale che anche qui delle colonne che si raccordano alla parte alla parte centrale e la una piramide di chiusura con una piccola sfera alla sommità perfetto allora per la forma di base più che il paraboloide quella che probabilmente lo approssimo meglio lo troviamo in caratteri ed è se scendiamo un po eccolo qua una forma ovoidale naturalmente qual è il problema che la forma ovoidale ha anche la parte sotto che a me non interessa quindi diciamo che io della forma ovoidale prenderò questa metà questo poco più della metà superiore la parte inferiore adesso la andiamo a cancellare quindi cerchiamo per di recuperare più o meno le misure che che siamo sicuri che riusciamo a ottenere quindi la base della mia struttura deve essere 82 per 82 consideriamo il cordolo quindi magari la facciamo 80 per 80 clicco e vado a modificare le dimensioni una volta impostate le dimensioni della base come vedete la mia struttura ovoidale si è deformata quindi andiamo a prendere più o meno anche il valore dell'altezza qui siamo a 87 ritorniamo più o meno anche questa volta intorno a 80 ecco ok già meglio allora probabilmente poi la rialziamo un attimino andiamo a tagliare quindi a utilizzare dalle forme di base un cubo vuoto per sottrarre tutta la parte che non ci interessa probabilmente il cubo vuoto andrà un po adattato ecco qua quindi lo facciamo bello largo e saliamo fino a prendere la parte così direi che può andar bene ok se vi ricordate il cubo vuoto una volta raggruppato al mio al mio solido fungerà da sottrattore quindi tutta la parte contenuta all'interno del vuoto sparirà vediamolo subito seleziono entrambe gli oggetti e utilizzo il tasto raggruppa eccolo qua riposizioniamo la mia nuova forma sul piano di base per far questo come vedete ho questo indicatore questo indicatore qui lo abbiamo rimesso a zero siamo tornati sul piano di base come vi dicevo questo valore ora c'è un po cambiato quindi andiamo a rialzare ancora per avvicinarci 80 adesso è decisamente troppo andiamo a 70 65 ok siamo in generale abbastanza vicini alla alla nostra alla nostra struttura di partenza in questo caso quando dobbiamo ricopiare oppure costruire una forma la modellazione 3d ci permette di pianificare costruire controllare e nel caso migliorare quello che abbiamo quello che abbiamo disegnato ok quello che è il classico think make improve che nella modellazione 3d diciamo che si mette in pratica molto molto bene perfetto adesso che ho la struttura base cominciamo a costruirci sopra per il momento la tengo piena ok lo svuotamento lo farò come ultima operazione però siccome questa forma base che mi sono costruito mi sarà utile per altre parti della costruzione me la copio quindi utilizzo il tasto duplica e la sposto poi siccome altrimenti ho troppe cose sul piano di lavoro la nascondo bene rimaniamo con queste due forme adesso partiamo dal basso e cominciamo a costruire la prima cornice la prima cornice è molto molto semplice molto lineare quindi basterà importare un cilindro importiamo un cilindro mettiamo l'asse z più o meno a dimensione mettiamolo 3 2 mettiamolo 2 se vi ricordate la base della mia cupola è 80 80 questa la farò un po più grande quindi andiamo a 80 anche qui prima di allinearla duplico l'oggetto perché comunque mi servirà tra poco per fare la seconda la seconda la seconda la seconda cornice quindi duplico sposto anche in questo caso nascondo perfetto dopodiché selezioni due oggetti e con il tasto allinea li vado a centrare eccolo qua ci avviciniamo un po' direi che più o meno ci siamo se vogliamo possiamo andare a aumentare il numero di lati per fare un po' più tonda la cornice eccolo qua bene primo passaggio fatto ricordatevi tutte le volte che un passaggio è completato e le strutture sono nella posizione corretta raggruppate ecco qua benissimo allora andiamo subito a fare il passaggio successivo facciamo ricomparire le forme che avevo levato questa ancora non mi serve ritorniamo alla seconda cornice se mi avvicino all'originale la seconda cornice è leggermente più spessa della prima vedete dove qui si appoggiano quindi possiamo andare a farla un po' più ampia quindi invece che 82 proviamo a metterla a 84 adesso prima di allinearlo lo alzo leggermente ok e poi andrò a posizionarlo nella posizione corretta quindi seleziono i due ancora una volta tasto allinea e andiamo a centrarlo eccolo qua adesso se vogliamo essere un po' più precisi ci avviciniamo e vediamo grosso modo direi che più o meno forse è appena un attimo più in basso eccolo qua ok abbiamo posizionato anche la seconda cornice posso allontanare leggermente e nuovamente raggruppare anzi scusate mi sono dimenticato un passaggio come abbiamo visto prima andiamo a aumentare il numero di segmenti dopodiché raggruppiamo nuovamente bene queste diciamo che fino a qui era tutto abbastanza facile adesso dobbiamo andare a costruire queste strutture che vanno ad appoggiarsi sulla mia cupola naturalmente in Tinkercad non esiste una forma già fatta che faccia questo che faccia questa geometria per cui me la devo ricavare è un po' più importante